Amici di Triathlet, l'occasione è ghiotta conoscere la nuova TCR e lo faccio insieme ad Alessandro Fabian. Ciao Alessandro, grazie. Ciao Fabio. Grazie. Eccolo qua, il nuovo gioiellino di Giant che vede ancora una volta un'evoluzione più leggera, più reattiva, fili e cavi integrati. Insomma, è una bici che sposa il passare del tempo. Tra l'altro è una bici che anche tu userai. È sempre sul pezzo, diciamo. È una bici che è sempre sul pezzo, infatti andremo a provarla nelle prossime ore e poi sarà una bici con cui pedalerò anche questa stagione. Sì, ha fatto un upgrade importante, soprattutto da un punto di vista dei cavi, che gli ha fatto sparire e quindi è più performante e aerodinamicamente meno importante. E poi ha cambiato completamente le geometrie della bici, perché sembra simile ma fondamentalmente le sezioni sono completamente diverse. Tra l'altro è una bici più leggera rispetto al modello precedente. Esatto, hanno alleggerito ancora di più, hanno definito. Poi a me piace molto perché è pulita, è essenziale, non ha tanto... L'alleggerimento di questa bici passa anche dalle nuove ruote. Nuove ruote in carbonio da 42 con la flangia del mozzo molto particolare, dettagli che poi andremo a vedere nel test su Triathlon. Però insomma, alla fine il contesto è quella della grande performance sotto forma di bici. Sì, sicuramente, come hai detto tu, è performante soprattutto le nuove 40, ruote Cadex da 40, i nuovi tubeless Cadex, che comunque diciamo aggiungono un quiz alla bici. Sarò anche curioso di provarla perché effettivamente sarà un nuovo mezzo completo anche per me. Va bene, allora andiamo perché abbiamo anche tanta salita da fare.